L'esodo turistico che ha investito il Molise da qualche anno a questa parte continua senza sosta, anche nei centri più piccoli e suggestivi della regione, che vengono investiti dal flusso turistico anche durante la stagione invernale. Si va alla scoperta delle bellezze che si trovano nelle zone costiere fino alle montagne, passando per le magnifiche zone collinari. Ne abbiamo parlato con Pellegrino Nino Ponte, sindaco di Montorio nei Frentani, che ci ha raccontato le bellezze del suo paese, le attrattive e il motivo per cui tante persone originarie del luogo tornano periodicamente a Montorio per viversi così le sfumature del posto. Innanzitutto è stata riscoperta una certa ruralità che prima era una vergogna, adesso invece pare che paghi. Questa ruralità che ha fatto conservare bene le tradizioni, la storia, e ne abbiamo tanta, e ha fatto riscoprire questo Molise che è stato ben conservato proprio perché forse per troppo tempo abbandonato. Tante anche le opere d'arte punto di forza del paese. Non solo la pala d'altare del fiammingo Dirk Hendricks che è stata all'Expo nel 2015, ma ci sono tantissime altre opere d'arti nella chiesa matrice come l'altra pala d'altare dedicata all'Assunta e un'altra pala d'altare di Santa Caterina d'Alessantria, oltre a numerose tele di Paolo Gamba, un organo a canne di pregevole fattura del 1700. E poi c'è uno strumento liturgico raro o unico nel suo genere, la ciarancella, i cori angelici che suona in determinate e particolari circostanze ricorrenze. Alle tue spalle è stata inaugurata soltanto un anno e mezzo fa un nuovo gioiellino che contribuisce ad arricchire il vostro paese. Sì, il monumento all'emigrante non è il solito monumento del poveretto che scappa con la valigia, ma sono sei scene che rappresentano sei motivi, sei momenti dell'emigrazione e sono identitari per tutti i tempi e per tutte le stagioni. Quindi perché l'emigrazione non si ferma, ne stiamo vedendo in questi giorni pure i flussi migratori che accettiamo. Mentre prima si partiva, sì, questa grande comunità che si è stabilita negli anni 50 fino agli anni 70 a Montreal e a Toronto, che ha svuotato letteralmente il paese e adesso si vive proprio in quest'anno, che è l'anno dedicato al turismo delle radici, si vive di un rientro. Abbiamo parecchie persone che già hanno preso contatti per trovare alloggio, anche in virtù del fatto che abbiamo un patrimonio urbanistico molto molto esteso e quindi andrebbe un po' riconsolidato per offrire maggiore accoglienza possibile.